Non è Putin che vuole emettere missili in America, è il contrario, sono gli americani che vogliono emettere missili da Putin e quello giustamente non glielo permette. Ovviamente se Putin non fosse una potenza nucleare già l'America l'avebbe bombardato e tutti diremmo, ah sì sì è buono, come hanno fatto in Libia o in tanti altri posti. Il discorso non nasce ora, il discorso nasce nel 2014 che hanno fomentato un colpo di Stato, è salito questo buffone ed è da otto anni che uccidono persone nel Donbass che sarebbe una repubblica indipendentista che appartiene all'Ucraina comunque e sono morti in questi otti anni migliaia e migliaia di giusti. Tu lo sapevi? Non lo sapevi perché? Perché la TV e i giornali non dicono niente. Ora se ne accorgono perché i morti sono dall'altro lato, quindi siamo giusti, esageriamo con la nostra, non esageriamo con la TV o con il giornale, convinciamoci del nostro.